oh giovane vieni qua vieni così almeno un minuto da solo riesco a stare o ti ricordi quando sei arrivato in albergo che figura mi hai fatto fare con la tua bicicletta come era messa guarda la mia ecco adesso ti do anche l'onore di pulirmela visto che partiamo sempre con gli allenamenti e collegare con le biciclette pulite quindi sei fortunato perché abbiamo anche i prodotti a secco quindi non deve tirare cimatico l'acqua visto che siamo il team red noi dobbiamo essere precisi in tutto dobbiamo superare i mirchi anche in questo bici sempre perfette sempre pulite soprattutto perché vedo che c'è una buona mano quindi questo in ogni angolo è lui mi piace mi piace come persona mi piace anche ogni tanto sgridarlo perché va tenuto a freno perché troppo esuberante tante volte però va bene ci sta è un è un bravo ragazzo è una bella persona catena questo prodotto specifico per la catena spruzzi e risciacqua da solo e resta anche lubrificata quindi fa tutto lui o che bello 3 in 1 yes ma che spruzzo io perché se sennò te mi sa che faccio gira 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 te fai girare i pedali gli diamo che la cera al telaio questo è importante perché non fa neanche attaccare polvere fango quindi anche durante le gare noi sempre la bicicletta lucidata con questo prodotto in modo che non attacca più niente mi sembra che è venuta bene dai mancano mancano le ruote da pulire quindi abbiamo anche questo prodotto nuovo tutto sulla carta mai passano su così bene direi che siamo a posto adesso io vado bene un bel caffè e te metti sulla tua e te la pulisci così deve essere bravo lele ti odio